ciao a tutti oggi facciamo la recensione del film le streghe è un film per bambini è un film dove praticamente ci sono come attrici protagoniste tra le più famose a nato e octavia spencer che per chi ha visto divergente come me è la diciamo capa dei pacifici ottavia spencer mentre a nato è un po più conosciuta allora nato e non so se si pronuncia così vabbè io lo pronuncio così è la strega capo strega la strega più cattiva del di tutte le streghe che sono presenti in questo film mentre octavia spencer è la nonna del ragazzino che poi verrà trasformato in topolino perché per queste streghe vogliono distruggere praticamente l'umanità e soprattutto i bambini e quindi succede che non sto spoiler al troppo diciamo che vanno in questo hotel e tentano di distruggere dei bambini e poi per il resto ve lo guardate io ve lo consiglio a me è piaciuto se avete dei bambini fatelo vedere perché non fa paura anche può essere pure divertente per i bambini quindi detto questo io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima ciao